Magni, Coppi, Anketil, Bartali, Martini, Max, Evans, Cavendish. Da oggi Viale Verdi a Montecatini si è arricchito di alcune belle gigantografie dedicate ai più forti ciclisti di tutti i tempi e all'ospitalità che la cittadina termale ha sempre dato a questa disciplina sportiva. Si tratta di un omaggio ai prossimi campionati del mondo, una piccola tappa di avvicinamento alla rassegna ridata in programma a fine settembre, ideata dall'amministrazione comunale e dallo studio fotografico Rosellini, il numero uno quando si parla di archivi di immagini storiche di Montecatini. L'iniziativa è partita dall'assessorato alla cultura e dall'assessorato allo sport del comune di Montecatini Terme e tramite le immagini storiche dei ciclisti a Montecatini, immagini dello studio fotografico Rosellini, sono state realizzate queste cinque gigantografie che rappresentano la storia del ciclismo in città. Le troviamo su Viale Verdi, nel tratto davanti al municipio, dall'edicola al cinema eccelsi. Abbiamo provinato circa un centinaia di foto di ciclismo d'epoca e di ciclismo attuale, le abbiamo visionate insieme all'assessore e questi sono i soggetti che sono stati scelti per realizzare questi pannelli. I'll survive you, I will survive you, well it's too late I know, to change the way we go from this day on, I want to stay on, now that I've started learning, and the tides started turning, well it's here I want to stay, I'll let the moon announce my arrival, to every eye and it cares who you see just work it all